Partite! Partite di Grazia Force che rimane al suo esterno, poi Ciclone da Clodia con in coda all'esterno la Rev Magique. Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con Intenzionado allo steccato e Grazia Force al suo esterno, dietro le due per linee interne Ciclone da Clodia e alla centropista invece la Rev Magique. Siamo ora a 450 dal palo con il leggero vantaggio all'interno Intenzionado nei confronti di Grazia Force che sta passando al suo esterno, più indietro rimangono gli altri due. Siamo a 200 dal palo con Grazia Force che ha preso la meglio nei confronti di Intenzionado e nel tratto conclusivo è Grazia Force che si impone davanti a Intenzionado, poi Ciclone da Clodia e la Rev Magique.